il sinistro pallone cerco al lancio per Burato posizione laterale Burato al centro attenzione la palla in rete Rosa ha portato in vantaggio il Monte Silvano c'è spazio per Paolino da Silva Bisonan, c'è spazio Bisonan sull'esterno bravo del Ferrari in qualche maniera poi Buaventura da quest'altra parte Buaventura André Ferreira ha rimesso il pallone in gioco attenzione buon movimento da parte di Rosa era il doppio del Monte Silvano con il destro incrociato su questo corner la Carli Sparco Gianco Bisonan va via bene Dalcina alza lo concederanno affinazione Paolino Pinto è il primo gol dalla Carli Sparco Gianco in Serie A lo sigla lui il buon Barberudo Gallazio Paolino Pinto col sinistro 1-2 e si comincia a scaldare il pallaciserone in possesso di palla Bordignon lancio per Burato attenzione è completamente solo destro da parte di André Ferreira è il 3-1 per Montesilvano Morgado su rimessa a trovare lo spazio per il tiro va Ruben Paolino Pinto Paolino Pinto va giù non c'è nulla in questo caso dal CIN riparte la Montesilvano attenzione attenzione Rosa del Ferraro evita il 4-1 si riparte buona vettura buona vettura ripallo top 3-1 per la squadra abruzzese Ruben sterza e tira finalmente si avvicinano per il raddoppio i giocatori del Montesilvano va Ippoliti la finta Ippoliti Paolino Pinto va tobre Paolino Pinto si gira va giù ed è queste complicazioni il destro di Burato la respira Paolino Pinto Paolino da Silva scusate ancora Ippoliti si incrociano Paolino Pinto il Miracolo di Dancina due volte pazzesco e la vede di Ruben 3-2 a 2-50 dal termine riapriamo la partita ma che cosa aveva fatto Dalcini due parate pazzesche e poi il gol quasi di prepotenza di Ruben ancora Dalcini rimane a terra nel gol di Ruben a 2-50 dalla fine della partita e si ricomincia due minuti e cinquanta per sperare abbiamo finalmente fatto il gol di teatro Tave in due secondi cambia tutto al palacetaroni di Gessiano ha segnato Tave il gol del teatro furto con mestrezza da parte di Roberto Tave esplode il palacetaroni in cinque secondi abbiamo pareggiato i colpi per la carisbarca gianco ha segnato il numero 4 Roberto Tave e rosa sta per perdere la Bordignon la mente avanti alla menteggio il tiro di Terceraro mamma mia c'è mancato niente che veniva giù il palacetaroni bravo destra è anche bravo molto bravo attenzione l'errore di Politi ma Burato attenzione mamma mia che